La prima del nostro telegiornale. Come vedete anche alle mie spalle i temi principali di questa serata sono ancora le parole del Premier Draghi con i ristori indicati per tutte le categorie colpite dall'emergenza Covid. Ascolteremo il commento di Marco Laraspata ai nostri microfoni, dopodiché torneremo sull'argomento di Procida, capitale della cultura, assieme a Lisa Rotondo che ci spiegherà il progetto Conosci Procida. Parleremo ancora di Forio Basket con il presidente Vito Iacono che si gode il terzo successo consecutivo dei suoi contro l'Irpini Avellino di sabato pomeriggio anche se non manca di lanciare qualche frecciatina a tutto il movimento, a quello che rappresenta in questo particolare momento difficile per tutto il paese, dice noi abbiamo una grande responsabilità come movimento. Ma di questo e tanto altro, con la solita pagina dedicata anche all'emergenza sanitaria, parleremo dopo la pubblicità. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arpel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gabs, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in corso vittoria colonna, Arpel. Grandi saldi per grandi marche. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione, per la salute degli isolani. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Referdinando 4 Stelle Leisure ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 01 11. E da oggi caparra 0 e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le quattro stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Referdinando, stupirvi, è la cosa che ci riesce meglio. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte, Keramos, la ceramica d'Ischia, una lunga storia senza fine. Pedofilia a Casa Micciola prosegue il processo. Nell'ultimo atto del procedimento ascoltato è il maresciallo Flavio Trani. Prossima udienza a maggio. DL sostegni, insoddisfatto il mondo del commercio. Così Marco la raspata dell'Icom Icast sugli stanziamenti stabiliti dal governo Draghi. Procida, capitale della cultura, parte il progetto Conosci Procida. Presentare il tutto a Teleischia è Lisa Rotondo. Vito Iacono, bella vittoria, ma serve senso di responsabilità. Il presidente del Forio Basket esulta per il terzo successo stagionale dei suoi, ma non manca di sottolineare alcuni aspetti negativi del momento. Buonasera e ben ritrovati per l'edizione serale del telegiornale di Teleischia. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte con raffiche e mare agitato e possibili mareggiati a partire dalle 18 di oggi fino alle 23 e 59 di domani. L'allerta per vento in forma alla protezione civile riguarda l'intero territorio regionale. Su tutta la Campania si scrive venti localmente forti da nord-nord-est con raffiche, mare agitato con possibili mareggiate sui tratti costieri. E lo dicevamo nei titoli. Continua il processo per i due uomini accusati di pedofilia e prostituzione minorile ed arrestati il 25 marzo 2020 a Casa Micciola dai Carabinieri. La vittima è un ragazzo che al momento dei fatti aveva 14 anni. Veneto il discorso il 19 marzo presso la nonna sezione penale del Tribunale di Napoli il giudice ha ascoltato come test del Pubblico Ministero il maresciallo Flavio Trani del nucleo operativo dei Carabinieri di Ischia che ha riferito in merito alle indagini svolte sul caso. Il militare ha parlato con particolare riferimento agli accertamenti effettuati subito dopo la presentazione della denuncia da parte della madre del minore tesi all'identificazione dei soggetti coinvolti. Inoltre Trani ha pure riferito delle successive indagini espletate con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali delegate dalla Procura della Repubblica di Napoli. Nella prossima udienza rinviata al mese di maggio verranno ascoltati altri militari del nucleo operativo che si sono occupati di indagare su questa delicatissima vicenda. Veniamo ai controlli del fine settimana. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza segnala che tra venerdì e domenica sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1.500 persone e attività commerciali per 101 sanzioni complessive non solo anti-covid ma in particolare per contrabbando di sigarette e gioco d'azzardo. I controlli hanno riguardato soprattutto la città di Napoli in particolare il lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodinò, via Chiaia, i Decumani e il Vomero. 55 le persone senza mascherina, in strada senza validi motivi oppure che consumavano all'interno dei bar. Nelle immediate adiacenze dell'area portuale il secondo gruppo ha sanzionato 20 persone sorprese in strada senza comprovati motivi, fuori dal proprio comune di residenza o durante il coprifuoco e presso il molo commerciale di Capri anche grazie a segnalazioni di cittadini pervenuti alla sala operativa del Comando Provinciale tramite il numero di pubblica utilità 117 ancora altre sanzioni. Però per la Prefettura di Napoli in totale sono state controllate questo fine settimana 13.188 persone di cui 434 sanzionate 41 denunciate per altri reati 937 esercizi commerciali di cui 17 sanzionati mentre per 5 di loro è stata disposta la chiusura provvisoria e sono state impiegate in tutto 4.158 unità di personale questo è il bilancio generale fatto da la Prefettura di Napoli e dopo l'elezione di Procida, capitale della cultura per il 2022 e dalla sinergia tra Procida, Ischia e Napoli si è avviato il progetto Conosci Procida un progetto che punta attraverso audio e video a far conoscere le bellezze dell'isola di Arturo non solo in Italia ma anche all'estero queste le parole di Lisa Rotondo sull'iniziativa Conosci Procida il servizio Procida capitale della cultura è soprattutto una grande vetrina per artisti da qualche tempo sta nascendo una bella sinergia tra Procida, Ischia e Napoli con questo progetto Conosci Procida con noi Lisa Rotondo che ci spiega un poco che cos'è nella sostanza Conosci Procida Alla nomina di Procida capitale della cultura italiana 2022 il maestro Marco Gambardella è venuto all'idea di mettere in piedi questo progetto che è proprio Conosci Procida che cos'è Conosci Procida? Conosci Procida allora da una parte noi vogliamo mettere in evidenza le bellezze dell'isola lo facciamo già tutti i giorni attraverso i nostri social quindi con video, immagini e dall'altra parte proponiamo un audio-video cioè audio perché comunque si tratta di una canzone una canzone che appunto parla di Procida che proprio proponiamo questa canzone per l'importantissimo evento di Procida capitale della cultura 2022 che poi può essere come colonna sonora può essere usata come un inno come sigla eccetera eccetera ovviamente poi come video perché cercheremo di rappresentare la canzone la canzone che in qualche modo potrebbe essere l'inno di Procida capitale il progetto già è in una fase avanzata questa sinergia che si è creata tra Procida, Ischi e Napoli dove trae le sue origini? Allora dal momento in cui noi abbiamo pensato a questo progetto ovviamente non ci sono soltanto figure procidane ma ci sono anche figure ischitane ci sono anche figure di Napoli ma non soltanto basta considerare che comunque il nostro diciamo colui che ha avuto l'idea è a origine ischitane ma adesso è comunque residente in Austria ce ne stanno anche altri e ovviamente tutti noi abbiamo deciso di collaborare a questo progetto perché? perché comunque per prima cosa noi dobbiamo comunque esaltare vogliamo esaltare le bellezze dell'isola che queste bellezze dell'isola sono comunque conosciute da tutto il pubblico comunque napoletano ma in parte comunque estrane al resto diciamo dell'Italia ma ancora di più all'estero e il nostro obiettivo è stato proprio questo con Conosci Procida il nostro obiettivo è quello di far conoscere l'isola non soltanto in Italia ma in tutto il mondo noi ovviamente lo facciamo attraverso i social e attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram ed anche per questo le nostre pagine sono tradotte in varie lingue proprio per permettere agli altri di vederle non soltanto osservarle e vederle ma anche poterle comunque leggere in varie lingue e questo è il nostro obiettivo il decreto sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri con uno stanziamento di 32 miliardi per lavoratori ed imprese non soddisfa completamente i commercianti dobbiamo capire la questione degli ammanchi in percentuale da tenere in considerazione commenta Marco Laraspata di Icom Icast sentiamo la prima impressione è stata questa sono scesi al 30% contro il 33% perché hanno praticamente fatto delle lotte all'interno della maggioranza o della composizione politica infatti si vociferava anche che potesse cadere il governo in virtù del fatto proprio di questi contributi a fondo perduto io in merito a questo contributo a fondo perduto per le imprese e i professionisti devo dare due riflessioni particolarmente gravi perché non si può pensare che un'azienda che abbia perso il 29% non riesca ad avere nemmeno un centesimo dallo Stato ma nemmeno si può pensare in modo proporzionale che un'azienda che perde un importo di fatturato importante tipo 200-300 mila euro abbia un importo esiguo parliamo di 3-4 mila euro con delle simulazioni fatte e questo per quanto mi riguarda è anticostituzionale io ho individuato tantissime aziende che hanno avuto decrementi dal 25 al 30% sarebbe stato aspicabile dare il contributo a fondo perduto sicuramente per fasce di fatturato ma sicuramente in modo proporzionale come paghiamo l'imposto in modo proporzionale dovremmo ricevere anche il contributo a fondo perduto in modo proporzionale è completamente anticostituzionale come l'è stato anche precedentemente con i codici a teco ci sono state tantissime attività che sono state escluse con i codici a teco in virtù di questa cosa personalmente mi sto già adoperando per eventualmente fare un ricorso al TAR e individuare anche i soggetti che ci aiuteranno nell'espletamento di queste pratiche per poi praticamente cercare di avere il minor costo possibile per noi imprese perché adesso già siamo messi molto molto male per quanto riguarda invece la nella sintesi insomma proprio del contributo a fondo perduto c'è stata anche l'esclusione delle aziende che vanno oltre 10 milioni di euro anche qua non lo vedo giusto perché un'azienda che fa più di 10 milioni di euro che sono stati brevi negli anni a crescere col fatturato e danno da mangiare a tantissime famiglie e quindi hanno tantissimi collaboratori e dipendenti non vedo perché devono essere escluse probabilmente perché gli importi da dare a queste aziende sono tantissimi e quindi non ci sono proprio le risorse economiche da parte dello Stato e questo è in sintesi su questo argomento del fondo perduto è un incontro tra ConfCommercio e i partiti in Campania a proposito di concessioni baldinari turismo vaccini logistica distretti del commercio tanti i temi in discussione quel che denunciamo ci spiega Pasquale Russo il direttore generale di ConfCommercio Campania è che ci sembra che l'attenzione nei confronti delle nostre imprese sia troppo limitata rispetto alle dimensioni e soprattutto la politica oggi deve indicarci una strada nonostante le enormi difficoltà indiscutibili del momento da questa riflessione prosegue Russo arrivano le nostre proposte che si occupano anche dei temi oggi più attuali come blue economy e transizione ecologica ma anche quelli come le concessioni balneari che riguardano il territorio e nel momento più immediato se muoiono le imprese l'Italia non ha futuro due delegazioni di acconciatori e centri estetici aderenti alle associazioni ICAST e Casa Artigiani hanno incontrato il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola per evidenziare la crisi del settore acconciatori e benessere gli acconciatori e le estetiste hanno subito un grosso danno da queste nuove chiusure ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola perché avevano anche investito molto per adeguarsi dotandosi di tutti i presidi di sicurezza noi vogliamo andare incontro alle categorie con cose vere quindi il primo bando che pubblicheremo a breve è un aiuto sui fitti e le utenze partendo dallo scorso mese di marzo poi abbiamo riproposto l'intervento sul pagamento del tasso di interessi su eventuali prestiti per liquidità ma si spera prosegue sempre Fiola che con la ripresa possano avere bisogno anche di investimenti nuovi e quindi per un adeguamento tecnologico mettiamo in campo anche 15 mila euro a fondo perduto e si è tenuta questa mattina sempre a Napoli dinanzi alla prefettura la manifestazione organizzata da Confesercenti Campania per tutelare il settore benessere parrucchieri in gravissime difficoltà circa mille i manifestanti della categoria immagine benessere di Confesercenti che con la partecipazione dell'associazione dal nome Stam K e di altri rappresentanti nelle partite IVA una delegazione è stata ricevuta in prefettura da Dario Annunziata dirigente membro del gabinetto del prefetto Marco Valentini abbiamo chiesto spiega Schiavo il presidente di Confesercenti Campania di girare le nostre istanze al governo e al ministero dell'economia imporre la chiusura a queste attività è un'ingiustizia garantiscono sicurezza per la salute dei clienti devono riaprire quanto prima così si alimenta solo l'abusivismo dice Schiavo e un aggiornamento sulle vaccinazioni eseguite in Italia e in Campania secondo i dati forniti dal ministero della salute fino alle 19.31 di oggi 22 marzo sono state effettuate in Italia 7.894.659 vaccinazioni in Campania le dosi consegnate sono state 771.295 ad oggi sono state vaccinate 673.118 persone la percentuale sulle dosi consegnate è pari dunque all'87.3% siamo pronti per la vaccinazione di tutta la popolazione lo sostiene Alessandra Clemente assessore del Comune di Napoli sentiamo è ovviamente giusto dire ci vogliono i vaccini per poi appunto vaccinare tutta la popolazione il Comune di Napoli supporterà anche le ASE e la Regione Campania nell'individuazione di luoghi pubblici poi dove effettuare le vaccinazioni di massa Noi lo stiamo facendo penso alla mostra d'Oltremare che il Comune ha messo a totale disposizione di questa intesa con la Regione lavoriamo insieme stiamo lavorando insieme io lavorerò anche come candidato sindaco insieme sempre con tutte le istituzioni affinché l'obiettivo comune sia quello di far amare i napoletani e Napoli ad ognuno più di loro e quindi ora anche sulla sfida del vaccino grazie alle professionalità e alle competenze anche del sistema sanitario ma penso anche ai medici di base ai farmacisti a tutto il personale sanitario tecnici di radiologia logopedisti fisioterapisti che sono stati messi così a dura prova noi ora dobbiamo organizzare un qualcosa di prossimo nei rioni dei quartieri senza file accessibile affinché possa il vaccino essere veramente uno strumento di democrazia e non invece uno strumento dove come è stato anche rilevato in occasione della bellissima immagine di Mattarella che ha atteso il suo turno per vaccinarsi ecco il vaccino non invece come strumento di pregiudizio ma ancor peggio di privilegio di qualcuno che pensa o di stringere accordi per le proprie realtà che rappresenta o addirittura di farlo da soli e per primo e l'Italia intanto è ferma a 200.000 dosi somministrate nonostante il paese abbia la ipotenzialità per inocularne il doppio il problema è la mancanza delle dosi l'EMA sta ora vagliando anche il vaccino russo Sputnik a dichiararlo Cavaleri commissario per l'evenzionza Covid anche il ministro Speranza è intervenuto sul vaccino russo resto convinto che non conti la nazionalità degli scienziati quanto la sua sicurezza e la sua efficacia ma per i dettagli seguiamo il servizio è di poco superiore ai 200.000 al giorno la media massima delle somministrazioni del vaccino in Italia la prossima settimana il calcolo che emerge anche da una verifica fatta con il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo è stato eseguito in base alle disponibilità di dosi attuali e quelle previste in arrivo nei prossimi sette giorni a quanto si apprende già attualmente la capacità di inoculazione nelle varie strutture del paese sarebbe invece già di circa il doppio rispetto alle quantità di fiera a disposizione intanto per il vaccino Sputnik EMA ha iniziato la revisione a cicli che avviene solo per i vaccini promettenti i dati vengono visti in corso per procedere quando il dossier è completato con un'approvazione veloce ad aprile faremo delle ispezioni in Russia sia per le produzioni che per lo studio clinico lo ha detto Marco Cavalleri responsabile della strategia vaccini dell'EMA Cavalleri ha poi spiegato che l'EMA non era a favore di una sospensione di AstraZeneca sono scelte anche motive per paura che la popolazione non capisca l'EMA chiedeva di verificare prima di sospendere il gran lavoro fatto in questi giorni ora ci permette di ricominciare a correre con le vaccinazioni a spiegarlo il Ministro della Salute Roberto Speranza con il decreto sostegno di campo oltre 150.000 tra medici di famiglia odontroliatri pediatri specializzanti e specialisti ambulatoriali in più avremo 19.000 farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270.000 infermieri da coinvolgere nella campagna che appena avremo più dosi potrà accelerare l'uscita dall'emergenza per gli effetti sulla fiducia degli italiani dopo la sospensione e poi la ripartenza delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca Speranza dice che servirà ancora qualche giorno per capire come va ma gli italiani sono consapevoli che il vaccino è l'arma più efficace per uscire da questa stagione così difficile la vicenda AstraZeneca a mio avviso Valletta in un altro modo massima attenzione anche verso eventi rarissimi per me non è un difetto di comunicazione ma una scelta di massima attenzione alla tutela della sicurezza di tutti per quanto riguarda la questione dell'export dei vaccini Speranza è intervenuto ed ha dichiarato l'Europa si è ispirata al principio di solidarietà personalmente non credo che la guerra paese contro altro paese per gli acquisti avrebbe prodotto risultati migliori in queste ore siamo i primi a chiedere alla commissione UE di essere rigorosa nel far osservare le aziende i contratti anche sul vaccino Sputnik è intervenuto il ministro Speranza resto convinto che non conti la nazionalità degli scienziati quanto la sua sicurezza ed efficacia cose che solo le nostre agenzie regolatorie possono accertare mi aspetto comunque che Emma sia rapida nel decidere su Sputnik come sugli altri vaccini in arrivo il sistema a colori per le regioni anche dopo il 6 aprile ha dichiarato il ministro Speranza credo sia la scelta più efficace a rendere le misure proporzionali alle differenti situazioni epidemiologiche dei territori sarà quindi confermata e il bilancio invece dei contagi sul territorio nazionale una decrescita nell'ultime 24 ore di 8.605 assistiti rispetto a ieri 563.067 gli attualmente positivi sul territorio nazionale effetto ad ogni modo dei non tantissimi tamponi che vengono effettuati la domenica ma soprattutto del gigantesco boom di guariti ben 32.700 720 guariti nelle ultime 24 ore per un totale di 2.732.482 purtroppo però ancora 386 decessi tra gli attualmente positivi 3.510 sono in cura presso le terapie intensive 28.049 sono invece ricoverati con sintomi vedete come entrambi questi dati portino accanto un segno positivo sono dunque in aumento come del resto anche le persone in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi levi 531.508 nel bilancio regionale 1.313 nuovi contagi su 10.671 tamponi molecolari eseguiti i guariti sono 2.617 i deceduti purtroppo 43 anche se il dato si riferisce a 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri per quello che riguarda le isole del Golfo di Napoli 6 i nuovi contagi su 93 tamponi eseguiti nei comuni interessati nello specifico si tratta di 2 cittadini che risultano essere residenti a Barano 2 a Forio 1 a Ischia e 1 a Capri nulla da segnalare per quello che riguarda l'isola di Procida dona un gioco è l'iniziativa di Abio Napoli per donare un sorriso ai bambini in ospedale se vuoi rendere felice un bambino in ospedale dona un giocattolo ad Abio Napoli l'associazione per il bambino in ospedale il significato della sigla Abio da 21 anni si occupa di sostenere e accogliere in 11 ospedali di Napoli e provincia i bambini e le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l'esperienza dell'ospedalizzazione scuola outdoor e sviluppo del territorio sono le parole chiave del corso benessere outdoor promosso dall'istituto di istruzione superiore Cristoforo Mennella di Ischia e dall'associazione di secondo livello Edon 4 incontri a partire da mercoledì 24 marzo 2021 in modalità online sulla piattaforma digitale dell'istituto Mennella 8 discipline outdoor e circa una trentina ai docenti iscritti dalle varie scuole di ogni ordine grado di Ischia e Procida le premesse sono delle migliori per avviare una riflessione tra esperti e docente sul ruolo che la scuola può rivestire nella promozione di queste attività sportive nell'ambito dei vari incontri verranno approfondite le tematiche relative alle attività all'aperto che propone l'associazione Edon e in particolare triathlon nuoto libero atletica leggera escursionismo arrampicata vela snorkeling e subacquea e riapre al culto la basilica di Santa Maria Maddalena il parroco annuncia che la chiesa parrocchiale a partire da domani martedì 23 marzo sarà aperta ogni giorno per la preghiera personale e la venerazione delle spoglie mortali del venerabile parroco Don Giuseppe Morgera giovedì 25 marzo giorno della solennità dell'annunciazione del Signore alle 10 saranno recitate le lodi mattutine con l'esposizione e l'adorazione eucaristica per l'intera giornata alle 19 i Vespri e la benedizione venerdì 26 marzo festa dei sette dolori della Beata Vergine Maria alle 18 sarà celebrata la Santa Messa Solenne e si terrà il prossimo 27 marzo la commemorazione della morte di Gesù la ricorrenza più importante dell'anno per la religione cristiana dei testimoni di Geova vi assisteranno mezzo milione di persone in Italia e oltre 20 milioni nel mondo mentre sull'isola di Ischia si prevedono 1500 contatti a causa della pandemia in corso anche quest'anno i testimoni parteciperanno all'evento in videoconferenza questo consentirà di proteggere la salute di tutti incluse le persone anziane e più fragili ha sottolineato Luca Ferraris il portavoce dei testimoni di Geova per la Campania chiunque volesse assistere alla celebrazione può rivolgersi a un testimone di Geova di sua conoscenza o utilizzare i contatti reperibili cliccando sui siti internet dei testimoni di Geova e per via della permanenza della Campania in zona rossa è stata prorogata la data per la riconsegna dei tesserini venatori relativi alla stagione venatoria 2020-2021 dal giorno 31 marzo fino al giorno 30 aprile inoltre si ricorda a tutti i cacciatori che usciti dalle zone rosse le sedi arci caccia territoriali comunali riapriranno per il ritiro dei tesserini regionali e la consegna presso gli uffici comunali evitando di creare assembramenti sempre nel rispetto dei protocolli sanitari covid-19 in materia di spostamenti sul territorio nazionale ed ora apriamo la pagina sportiva al termine dell'incontro di sabato di serie C gold di basket tra Forio Basket e Irpinia Avellino vinto dai biancorossi foriani per 71-58 il presidente Vito Iacono ha gioito per la vittoria dei suoi anche se non ha mancato di sottolineare alcuni aspetti negativi sentiamo con il presidente del Forio Basket Vito Iacono al di là prima di parlare della partita e del risultato direi che è una grandissima soddisfazione per te giocare partite del genere a Forio su un campo così bello era importante l'unica ragione per la quale forse valeva la pena che questo campionato cominciasse perché gli amici di Avellino appena sono arrivati ci hanno fatto i complimenti per la nostra ostinazione noi ci dobbiamo complimentare per quello che avete fatto affinché questo sogno si realizzasse sacrifici passione pressione adesso non è il tempo delle polemiche per niente infatti il sindaco era qui l'ho invitato l'abbiamo invitato perché è casa sua è casa di tutti è casa dei Foriani quindi dobbiamo ringraziare l'amministrazione l'architetto reggine che per l'amministrazione ha seguito tutto l'iter burocratico anche per l'acquisto dei canesi quindi grazie al sindaco grazie all'amministrazione e grazie a tutta la macchina burocratica e amministrativa se mi consenti però non saranno le tre vittorie che mi faranno cambiare idea sulla inopportunità che questo campionato cominciasse nel senso perché poi uno deve anche essere all'altezza è vero veniamo qua ci distraiamo vinciamo perdiamo per poco però dobbiamo anche essere all'altezza io ritengo che soprattutto qui al sud io sono un uomo del sud non capiamo in che contesto stiamo giocando dal punto di vista della conduzione arbitrale dei comportamenti in campo a volte facciamo qualcosa che è molto al di sotto del necessario dei tempi che fuori da questo palazzetto molti stanno vivendo e quindi potrebbe essere l'occasione in cui ognuno dà conto alla propria coscienza questo doveva competere agli organi dirigenti della FIP a quelli insomma dei comitati regioni comunque siamo qua perché abbiamo assolviamo ad un impegno per salvaguardare un diritto che è quello allo sport per mantenere il titolo sportivo che i ragazzi hanno conquistato sul campo gli faccio i complimenti al coach chiaramente io spero che da oggi in avanti sia l'ultima intervista che faccio a TV e all'emite no nel senso perché da quando comincia il campionato in poi diciamo la scena è di chi gioca e dell'allenatore insomma dobbiamo solo dare una mano dalle mansioni più umili a quelle più gravose dal punto di vista tecnico una vittoria importante tre vittorie consecutive ci dispiace per come è finita nel senso forse era anche importante la differenza punti per le questioni che dicevo basta vedere la cronaca della partita e vedere come alla fine siamo stati fisicamente aggrediti e non hanno fischiato i falci non si capisce perché di questo tempo 20 punti sotto si aggredisce e non si sanzionano le cose questo attiene la coscienza di chi gioca l'avrei detto anche all'incontrare infatti sono qui non a gioire per la vittoria ma a rimarcare alcune cose che si potrebbero tranquillamente evitare questo lo dico agli arbitri lo dico a chi gestisce le gare a chi sta in campo soprattutto anche i miei reazioni dobbiamo essere diversi questo covid ci ha cambiato o no e quindi vinciamo perdiamo l'avversario ci supera l'albitro non fischia dobbiamo essere diversi e questa è l'occasione per dimostrarlo e testimoniarlo altrimenti diamo ancora una volta una ragione che non valeva la pena che questo campionato si svolgisse Luca Di Spigna torna a casa parliamo di calcio di eccellenza dopo l'esperienza al barisardo dell'amico presidente Roberto Coveani conosciuto ai tempi dell'ischia il centrocampista Foriano classe 86 è pronto a ripartire alla ricerca della forma migliore per disputare questo speciale campionato di eccellenza in bianco verde Luca Di Spigna da quanto trapella è solo il primo tassello posto dal Real Forio che si prepara a puntellare l'organico con diversi nuovi elementi e per il calcio a 5 invece la SD Virtus Libera Forio comunica di non aderire alla ripresa del campionato regionale di serie C C1 per il 2020-2021 a determinare la detta decisione scrive la società in un comunicato è stata la ferria volontà del club di tutelare l'incolumità dei propri tesserati nonché delle famiglie in un momento delicato nel quale l'epidemia da Covid-19 è tornata purtroppo a mettere in ginocchio il nostro paese ed ora le previsioni del tempo Tino sulle coste schierite alternate a nubi sparse sulle aree interne bel tempo con cieli sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni sulle aree interne bel tempo con cieli sereni temperature massime in calo temperature minime senza variazioni mari molto mossi venti porti da nord est bene questo è il nostro ultimo servizio grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti